Roma, e durato un solo minuto il Consiglio federale di questa mattina Carlo Tavecchio si è dimesso come da noi anticipato ieri da presidente della Fink. Ha deciso quando ha capito che anche la sua Lega, quella di Lettanti, dove era stato vent'anni, gli aveva voltato le spalle. Ha capito quando da Piazzale Flaminio, dopo il direttivo, gli è arrivata una telefonata, mi spiace Carlo, ma non hai più i numeri. E ora Tavecchio tuona, ci sono state pressioni enormi sulla mia Lega. Pressioni politiche? Gli avevano voltato le spalle in tanti, ormai Malagò, Lotti, Gravina, Abete, Cairo, Squinzi, De Laurentiis, Tommasi, Sibiglia. Pochi i fedelissimi, fra cui Olivieri. E così Tavecchio, in carica dal 2014 e riconfermato il 6 marzo di quest'anno, si è arreso punto ha parlato di sciacallaggio politico e infuriato soprattutto con Malagò e con Sibiglia. Resterà in carica come commissario della Lega di Asino all'11 dicembre, ma la FIGC non lo avrà più al comando, anche in una fase transitoria. Perché c'è la volontà di commissariare la Federcalcio, lo dice lo statuto della FIGC. Punto senza la governance mi sembra l'unica soluzione. Questa la decisione di Malagò. Mercoledì alle 16,30 si terrà a Roma la giunta straordinaria del CONI. Siamo obbligati perché lo statuto recita che abbiamo 48 ore dal momento della convocazione, ha sottolineato Malagò spiegando il motivo che spinge il CONI a commissariare la Federcalcio. I fatti sono chiari e oggettivi. Se ci fosse stato un consiglio federale completo, compatto, forte, ci potevano essere anche altre soluzioni finali, ma se in un contesto così eccezionale come l'eliminazione del mondiale, ti ritrovi che alcune componenti prendono posizioni così antagoniste, come calciatori e Lega Pro, e anche in altre parti dall'Alla 100 erano dei rumors di scricchioli i Lega di lettanti, NDR, e aggiungi che due componenti neanche esistono, quella di A e di B, non è che serve uno scienziato per arrivare alla conclusione che avevo individuato già da qualche ora, ha concluso Malagò. Tavecchio ha saputo della decisione dell'N.1 dello sport, con cui ormai è in rottura totale, durante la sua conferenza stampa e ha risposto gelido ma quale commissario. Un fatto molto grave, ci sono le garanzie di legge, gli statuti. Il Consiglio federale non si è dimesso, come chiesto da Tavecchio tutti si aspettavano quindi che la FIG proseguisse in condizioni di prorogatio, e andasse ad elezioni entro 90 giorni. Ora a cambio la prospettiva Tavecchio potrebbe andare al TAR del Lazio contro Malagò. Qualche consigliere potrebbe appoggiarlo, fra i più furibondi ci sono Ulivieri e Gravina. Ecco cosa prevede l'articolo 24.9 dello Statuto della FIG. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissione del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vicepresidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugia ai sensi dell'articolo 21,3 del presente Statuto. Malagò non aveva alternative, non poteva andare in rotta di collisione col Ministro Lucca Lotti, rischiando una crisi istituzionale ancora più ampia. Il commissariamento sarà deciso mercoledì pomeriggio per ora tocca a Malagò che almeno ufficialmente si tira fuori. Ma se la giunta, a lui fedelissima, glielo chiedesse allora potrebbe restare commissario straordinario proprio lui. Diversamente potrebbe esserci una scelta interna, magari Roberto Fabbricini, stimatissimo dallo stesso Malagò. Ci potrebbero essere alcuni subcommissari. Si fa il nome di Franco Carraro. Di sicuro non sarà un commissariamento breve forse sei mesi, assicurano fonti. Coni, perché questa è l'occasione unica per fare quelle riforme del calcio che in questi anni nessuno è stato in grado di fare. Nessuno. Malagò ci proverà alle idee chiare, il calcio è il suo mondo. C'è da mettere mano a tutto, statuto compreso. Di sicuro la Lega d'IA non potrà scegliere il 27 novembre il suo presidente e il suo amministratore delegato contro il parere di Malagò, mentre giovedì balata dovrebbe essere eletto presidente della Lega d'Ibi. E poi, ci sarà un traghettatore della Nazionale Malagò stima molto di viaggio e poi, ma chissà quando, si penserà al nuovo presidente Fink. In corsa Cosimo Sibiglia, il favorito. Potrebbe fare il ticket con i calciatori. La Lega di Lettanti ha il 34%, i calciatori il 20%. Gioco fatto, in teoria, con a Tommasi affidata la gestione del Club Italia a Dio Olivieri. Ma Sibiglia a marzo sarà in corsa per essere riconfermato senatore di Forza Italia. Gli converrebbe che le elezioni Fink fossero dopo, molto dopo, magari verso.